Allora, a me quello che mi è piaciuto del corso è che Patrizia è una persona veramente concreta, quindi veramente con un giorno e mezzo, con poche ore anche, è riuscita a trasmettere chi siamo e per quale motivo siamo venuti qua, come possiamo sicuramente aiutare noi stessi e aiutare le persone, ma non con cose grandiosi, ma anche veramente con piccoli gesti. Quindi io veramente il consiglio che do a tutte e a tutte le persone che in questo momento mi stanno ascoltando, se avete dei problemi, avete dei pensieri, non siete felici, non arrendetevi, anzi, venite qui con noi, espandiamoci e sosteniamoci e io vi assicuro che tutto è possibile, io è questo che vi voglio dire, tutto è possibile, credeteci, prima deve partire da voi, poi tutto si estende e come dice Patrizia, tutto si va ad amplificare, quindi partite, agite, ora. Io lo consiglio perché è un rinascere, rinasci, veramente io mi rendo conto che sono veramente rinata, quindi comincio a capire chi sono proprio nelle mie piccolette e ho capito sicuramente tanti eventi della mia vita e quello è veramente una grande roba cosa. Sblocchi, sì, ti posso dire che magari qualcosa che mi era successo da piccola e poi per le credenze, per le paure e per il giudizio che ancora tanto ci sto lavorando adesso, ora ho compreso. Quindi è una grande cosa perché mi viene da dirti che non sono passa, cosa che invece fino a ieri un pochino ci pensavo. E poi tanti altri blocchi proprio miei, che poi sono blocchi che penso che un pochino tutti abbiamo e dobbiamo andare oltre a lavorarci perché si sciolgono, veramente si sciolgono. Quindi io lo consiglio a tutti. Patrizia, guarda, sei veramente un angelo. Io ringrazio la persona che mi ha fatto conoscere te e ringrazio veramente per il lavoro grande che vuoi portare a termine. E io ti prometto che anche nel mio piccolo cambierò il mondo. Anche nel mio piccolo, però agirò, farò. Grazie Patrizia.